Cari cittadini italiani, è arrivato il giorno quando finalmente cambiano le cose. Da oggi per la benzina c'è un prezzo fisso di 0,50 centesimi. Riduzione del 30% dallo stipendio dei politici. Blocco navale assoluto. Flat tax al 5%. E chiusura delle controversie tributarie con l'Agenzia delle Entrate per tutti gli italiani. Beh, purtroppo tutto questo non lo dico io, ma l'intelligenza artificiale. Buon pesce d'aprile.